Ciò che stiamo per intraprendere è un viaggio incantato, attraverso luoghi che sfidano la nostra concezione di realtà. Questi luoghi non appartengono completamente al mondo che conosciamo, ma sembrano piuttosto estratti da un'antica leggenda o da un sogno profondo. Sono luoghi che incantano e seducono, catturando la nostra immaginazione con la loro bellezza surreale. Preparatevi a un'avventura che vi porterà oltre i confini della normalità, in un regno di meraviglia, incanto e mistero. Prima di cominciare, se il video dovesse piacervi, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Pamukkale, Turchia. È una meraviglia naturale nota come il Castello di Cotone. La sua fama deriva dalle terrazze di calcare create dalle sorgenti termali che scorrono lungo la collina, depositando minerali. Queste terrazze bianche riflettono il cielo azzurro e il sole, creando uno spettacolo surreale. I turisti possono camminare lungo le terrazze o immergersi nelle piscine termali. Infatti, le sue acque termali hanno proprietà curative ed erano popolari già nell'antichità. Salar de Uyuni, Bolivia È uno dei luoghi più surreali e straordinari del pianeta. Questa vasta distesa di sale è il più grande specchio naturale del mondo, durante la stagione delle piogge. Quando l'acqua copre il sale, la superficie diventa un riflesso perfetto del cielo, creando una spettacolare illusione di infinite dimensioni. Durante la stagione secca, il salar si trasforma in un paesaggio di sale increspato che sembra appartenere a un mondo alieno. Cascata sottomarina, Mauritius Situata a largo della costa sud-ovest dell'isola, questa sorprendente formazione naturale sembra una cascata sott'acqua, ma è un'illusione ottica, causata dalla sabbia e dai sedimenti che cadono dalla piattaforma continentale nell'oceano. L'acqua dell'oceano, di un blu profondo, contrasta in modo spettacolare con il bianco della sabbia, che scende lentamente verso le profondità, creando un'atmosfera straordinaria. Questo spettacolo subacqueo è un'esperienza unica e affascinante anche grazie alla possibilità di scoprire la ricca vita marina circostante. Grotte di Vatnajokull, Islanda Sono una meraviglia sotterranea, sotto il più grande ghiacciaio d'Europa, Vatnajokull. Queste grotte di ghiaccio si sono formate grazie al flusso di acqua diffusione e al calore geotermico, creando corridoi di ghiaccio incantevoli. All'interno, le pareti scintillano di un blu luminoso grazie alla luce che filtra attraverso il ghiaccio compatto, creando un'atmosfera surreale. Camminare tra questi corridoi è come entrare in un mondo di cristallo incantato, dove il tempo sembra essersi fermato. Le terrazze di riso, Vietnam Sono un'opera maestosa dell'agricoltura in terrazza, creata dall'ingegno umano in armonia con la natura. Questi terrazzamenti scalano le ripide pendici delle montagne del nord del Vietnam, creando un panorama di bellezza senza tempo. Durante la stagione delle piogge, le terrazze sono inondate di acqua, riflettendo il cielo e trasformandosi in uno specchio di acqua e riso. Durante la stagione di raccolta, assumono sfumature dorate. Questo paesaggio unico è stato modellato da secoli di lavoro agricolo, dimostrando la connessione profonda tra l'umanità e la terra. Antelope Canyon, Arizona, USA È una meraviglia geologica nascosta nel cuore del deserto del sud-ovest. Questa stretta gola di arenaria è stata scolpita nel corso dei millenni dall'erosione dell'acqua e del vento, creando pareti di roccia sinuose e curve che sembrano danzare con la luce. Questo canyon è famoso per i raggi di luce che filtrano attraverso le fessure e illuminano il canyon stesso con colori spettacolari, creando un'atmosfera mistica e surreale. Great Blue Hole, Belize È una meraviglia subacquea e sembra un portale verso le profondità marine misteriose. È caratterizzata da un foro circolare nella barriera corallina e le acque profonde al suo interno appaiono oscure, circondate da un anello azzurro intenso. Questo fenomeno geologico si è formato durante l'era glaciale e offre opportunità di immersione uniche, rivelando formazioni coralline e vita marina sorprendente. Pink Lake Hillier, Australia Il lago rosa di Hillier è un'irreale meraviglia naturale. Le sue acque sono di un vivido rosa brillante, grazie a microorganismi come la dunaliella salina ed un altro batterio, che producono pigmenti rosa in risposta alle condizioni di salinità. Questo paesaggio unico sembra appartenere a un mondo incantato, circondato da vegetazione verde. Aiku Stairs, Hawaii Le Aiku Stairs, conosciute anche come Stairway to Even, sono un'opera di ingegneria e avventura situata sull'isola di Oau, Hawaii. Questa serie di 3.922 gradini serpeggianti si snodano attraverso la lussureggiante giungla tropicale. Questa scalinata vertiginosa offre viste panoramiche mozzafiato sull'isola, circondata da una nebbia misteriosa. La sensazione è quella di salire verso il cielo, mentre si cammina tra un paesaggio che sembra appartenere a un mondo mitico. Nonostante la sua chiusura ufficiale al pubblico nel 1987, le Aiku Stairs continuano ad attirare avventurieri e appassionati di escursionismo. Fly Geyser, Nevada, USA Il Fly Geyser è un geyser artificiale, ed è il risultato di un incidente di perforazione geotermica negli anni Sessanta. Le sue acque termali multicolori sgorgano in modo continuo, creando un cono di deposizione minerali iridescenti. I minerali accumulati conferiscono all'area un aspetto quasi alieno, con vibranti tonalità di rosso, verde e arancione. Il Fly Geyser è circondato da piccoli laghi termali e una vegetazione contrastante, aggiungendo ulteriore stranezza al paesaggio. Chef Chawen, Marocco Conosciuta come la città blu del Marocco, è un gioiello nascosto tra le montagne del Rif. Questa destinazione è famosa per le sue case dipinte di blu pastello, che creano un'atmosfera unica e magica. Le strade strette e le scalinate si snodano attraverso il centro storico, con un'atmosfera di tranquillità e serenità. Chef Chawen è un luogo che sembra uscito da una favola, un'esperienza di bellezza e autenticità marocchina. Perito Moreno, Argentina È uno spettacolare ghiacciaio nella Patagonia. Questa massa di ghiaccio, lunga 30 km, è rinomata per i suoi frequenti collassi di enormi blocchi di ghiaccio nel lago sottostante, creando uno spettacolo fragoroso. È uno dei pochi ghiacciai al mondo ancora in crescita ed è famoso per essere un ghiacciaio in continuo e veloce movimento. Infatti, grazie ad un cuscino d'acqua tra il fondale del lago e la base del ghiacciaio, il perito Moreno avanza, e si sposta, di circa due metri al giorno. Parco Nazionale Itachi, Giappone È un'esplosione di colori e bellezza naturale. Durante la primavera e l'autunno, migliaia di fiori di nemofila e di azalei dipingono il paesaggio in sfumature di blu e rosa. Le colline e i prati ondulati sembrano usciti da un sogno, offrendo paesaggi idiliaci che sono ideali per passeggiate e fotografie. Il parco è anche situato lungo la costa ed offre spettacolari vedute sul Pacifico. Gianciaccia, Cina Questa regione è famosa per le sue formazioni rocciose di arenaria che si ergono come pilastri giganti dalla foresta. Questi pilastri, chiamati montagne di picco, sembrano fluttuare nel cielo e creano un panorama quasi di fantasia. I visitatori possono esplorare sentieri tra queste formazioni uniche, godere di viste panoramiche spettacolari e ammirare la bellezza naturale incontaminata.